Il Comune di Siracusatto ha pesante cura dimagrante ai danni dei lavoratori. Nel vituperato spezzatino vicenda util service su 98 persone che lavoravano per servizi di supporto dell'amministrazione comunale oggi se ne contano solamente 52 in servizio, 12 in ferie forzate in attesa di una gara, 10 in condizione di licenziamento. Una cura dimagrante quella che l'attuale amministrazione comunale sta facendo ai danni dei servizi a supporto del Comune. La classe politica del Vermex ha fatto scelte discutibili, quelle di sopprimere alcuni servizi al cittadino e di dividere in numerosi rivoli appalti già esistenti. Questo in estrema sintesi l'intervento del Movimento Civico 4 che ha preso in esame la situazione dei lavoratori a supporto analizzando ogni singola parte al fine di restituire una foto realistica dell'impegno in Comune. Lo scorso aprile è stato assegnato con affidamento diretto al servizio di front office delle sedi comunali da 167 mila euro, determina dirigenziale, poi estesa al cittadino dello sport e palestra a gradina altri 20 mila euro. In questa attività di portierato operavano inizialmente 13 unità lavorative delle sopra città del 98, poi estesa a 18, ivi comprese alcune nuove assunzioni. Sorprende il fatto che siano state sottratte importanti attività di supporto nel settore dell'igiene urbana, dello Stato civile e delle politiche sociali, tre unità dirottate in attività di portierato, sia per il peso dei servizi che per la collettività che precedentemente svolgevano queste persone, sia per l'evidente demanzioramento delle stesse unità lavorative. Preoccupazione per la condizione lavorativa in cui versano le 12 unità che fino allo scorso 30 giugno erano impiegate nell'importante servizio dell'archiviazione digitale, rispetto a cui l'amministrazione non è stata in grado di farsi trovare pronta in tempo con una nuova gara. E' la cartina di tornasole di un'amministrazione che di Smart City ha davvero molto poco. Le 12 persone che si trovano in ferie forzate, quando termineranno le ferie con la prospettiva del licenziamento, se non subentrerà la cassa integrazione. Mentre l'amministrazione comunale anticipa, con una nota firmata dalla dirigente del settore informatico, l'inizio di una procedura negoziata senza bando. D'altra parte il costo della mancanza di programmazione che caratterizza l'amministrazione comunale uscente presta il fianco a procedure meno aperte, come quella sopra menzionata, conclude Civico 4. Nell'ambito delle cosiddette manutenzioni nel servizio navette, operavano in tempo 24 lavoratori ex-utile service, che a partire dal mese di dicembre 2021 hanno manifestato in Piazza Duomo. Continuiamo a ritenere scellerata, come abbiamo definito fin dal primo giorno, l'iniziativa con cui il Vermex ha soppresso il servizio navette nella nostra città.